Come ha raccontato i suoi nipoti del 1982? Non gliel'ho ancora raccontato, ogni tanto mi chiedono qualcosa loro. La bimba ha 13 anni quindi sa già tutto, però lei è molto legata alla danza, è molto legata all'attività sportiva. Però mi dice mio figlio, quando gli dicono del nonno lei ha un sorriso grande come un grattacielo. E il maschietto invece è un po' più piccolo, ancora deve entrare nel meccanismo di capire alcune cose. Però delle volte mia figlia mi fa, sai che Gianmaria gli ha detto agli altri per me, stanno giocando al paletto, io e mia nonna è il campione del mondo. Per ora è ancora in una fase dove interlochiamo poco con questo aspetto qua. Ok, quindi ci sta pensando. Sì, lo facciamo crescere tranquillo. Le pavere della partita, questo è stato? No, la partita quando c'è la vede, ma la vede poi si alza. No, no, dico quella dell'82. No, quello ci vuole tempo ancora. Ci vuole tempo. E quando? Eh non lo so, a meno a 10-12 anni, quando sarà un po' più grandicello.